Non si ferma al posto di blocco e si schianta contro un'altra auto sulla Montelabattese. Perdono la vita una mamma di 32 anni e il conducente della BMW in fuga. Sfonda il guardrail con l'auto e finisce nel torrente con le ruote all'aria. Attimi di paura in località Cannelle, tre giovani portati al torrente di Ancona. Due di loro non si sono fatti neppure visitare. Il 94enne cade nelle acque portuali salvata dalla guardia costiera di Pesaro. Ultimo grande ostacolo per gli studenti che stanno sostenendo l'esame di maturità. Oggi sono iniziate le prove orali. Sono soddisfatto, almeno è finita e possiamo dire di essere fuori, però me la sono cavata. Monsignor Strasarti riceverà la cittadinanza onoraria martedì nell'ex chiesa di San Francesco. La cerimonia per il Vescovo uscente per 16 anni punto di riferimento, ha detto il sindaco. Non solo religioso, ma anche civile della nostra comunità. Dalla presentazione del progetto al silenzio alle terme di Carignano scatta il sit-in dell'Udc e dei cittadini per chiedere risposte dalla nuova proprietà. Nuovi giochi in quattro aree verdi a Gimarra, Paleotta, Cucurano e San Lazzaro di Fanno. L'assessore Brunori annuncia interventi anche a Falciraga e panchine lungo le piste ciclabili dell'Arzilla e di Finile. Prosegue il progetto dei passeggi che a breve verrà finanziato. Benvenuti a Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. Prima un folle in seguimento con i carabinieri e poi il tragico incidente a più di 150 km orari sulla Monte alla Battesa. Perdere la vita nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio. Sono stati una giovane mamma di Vallefoglia e un fuggitivo. Il servizio di apertura è di Marco Lunigro. Due morti e tre feriti e questo il bilancio dell'incidente avvenuto domenica pomeriggio alle ore 16.30 sulla Monte Labattese, all'altezza di Villa Ceccolini, a pochi metri dall'intersezione con via Lago di Trasimeno. A perdere la vita sono stati Martina Mazza, 32enne di Vallefoglia, e Sultan Ramadani, macedone 27enne di Sant'Angelo in Vado. Secondo le prime ricostruzioni, la BMW Serie 3, su cui viaggiava Ramadani, era in fuga dei carabinieri. Li aveva seminati ma continuava a premere sull'acceleratore. A velocità elevatissima e in fase di sorpasso, l'uomo macedone ha perso il controllo dell'auto, andando così a scontrarsi frontalmente contro una Fiat 500 L. L'auto, a seguito del violento impatto, è finita nel fossato che costeggia la strada rovesciata e in fumo. Martina era una giovane madre separata, viveva col suo bambino di 5 anni a Montecchio e aveva un'attività improprio. Ramadani, senza patente di guida, era nell'auto con un altro ragazzo e entrambi, di recente, avevano avuto guai con la giustizia. Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre tre persone. Il secondo passeggero dell'auto in fuga, albanese, coetaneo e complice del Macedone alla guida, la sorella di Martina Mazza e un loro amico di 27 anni. Uno dei feriti è stato trasportato da Ancona in egliambulanza. Gli altri due a bordo dei mezzi del 118 sono tutti gravissimi e in prognosi riservata. Le auto distrutte sono state sequestrate. La procura ha aperto un fascicolo e farà chiarezza sull'accaduto. Tragedia sfiorata, invece, in località Cannelle di Fano, dove una golf con a bordo tre ragazzi è finita nel torrente. Successo nella notte tra sabato e domenica intorno a mezzanotte e mezza. Alla guida dell'auto c'era un 31enne di Fossombrone, di origine marocchina, che stava trasportando i due amici sui sedili posteriori. Un 24enne ganese, residente a Calcinelli, e un senegalese di 31 anni, residente a Fossombrone. Il conducente, che stava percorrendo via Cannelle verso la Flaminia, una volta giunto all'altezza della curva, prima dell'incrocio di Ponte Murello, è andato a sbattere contro il guardrail per poi finire nel torrente Rio Secco, con il mezzo cappottato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro con una gru, i colleghi di Fano, che hanno estratto il 24enne dalle lamiere, due ambulanze di Fano e Colli al Metauro, la polizia locale di Fano per i rilievi di legge, l'ACI e una ditta specializzata per il ripristino della strada. I tre giovani sono stati trasportati dal 118 al Torrette di Ancona. Due di loro si sono fatti dimettere senza farsi visitare, mentre il ganese di 24 anni al ganese sono state riscontrate delle fratture. Ancora cronaca, il ridosso di Fano piange la scomparsa del vicepresidente dell'associazione Vittorio Del Rico, 82 anni, colpito da un infarto nella serata di ieri. Perdiamo un grande amico che ha tanto contribuito alla nostra crescita, si legge in un post pubblicato su Facebook e dell'associazione sulla pagina Facebook. Ci uniamo al dolore di Anna, che lo amava tanto, dei figli e dei suoi cari nipoti. Ciao Vittorio, hanno proseguito gli amici, non ti dimenticheremo mai. Continua a sostenerci con il tuo sorriso, come hai sempre fatto. I funerali di Del Rico si svolgeranno mercoledì mattina alle ore 9 nella chiesa del Porto. Invece sabato pomeriggio a terre roveresche è deceduta in casa all'età di 104 anni Irma Del Bianco. Ne hanno dato il triste annuncio i figli e i nipoti. Quelle che vedete sono fotografie scattate nel giorno del suo 104esimo compleanno, festeggiato lo scorso mese di gennaio insieme ai familiari e al sindaco Antonio Sebastianelli. Torniamo a parlare ora della maturità 2023, perché archiviate le prove scritte, oggi sono iniziati i colloqui orali. Sentiamo le interviste realizzate da Marco Lunigro e i primi alunni usciti da scuola al termine dell'esame. Come è andato il tuo esame orale? Bene, bene, tutto bene. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati i collegamenti? La mia immagine era quella della globalizzazione in inglese, però io l'ho collegata prima a francese, le monerizzazioni. Poi in economia aziendale, le multinazionali, strategie, poi storia, ho collegato dopo la seconda guerra mondiale, la guerra fredda. In futuro cosa farai? Università? No, lavoro. Oggi l'esame orale come è andato? Allora, è andato bene, i prof sono stati abbastanza buoni, mi aspettavo di peggio. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati i collegamenti? Allora, la mia immagine è stata la piramide alimentare e l'ho cercato di collegare come meglio mi veniva in quel momento, anche magari un po' fantasioso o forzato, però alla fine sono riuscito a collegare qualcosa un po' meglio e qualcosa un po' peggio, però è andato bene, dai. Cosa farai in futuro? Futuro? Vediamo. L'anno prossimo intanto penso di iniziare a scienze motore urbino e poi comunque continuare con lo sport che pratico, vero, la pallacanestro e poi vediamo durante il corso degli anni. È andato bene, sono soddisfatto, almeno è finita e possiamo dire di essere fuori, però me la sono cavata. Dai, la tua immagine e i tuoi collegamenti? Allora, mi è capitata, io studio francese, mi è capitata un'immagine del pantheon francese e li ho collegati con chi è seppellito nel pantheon francese, con la letteratura impegnata, perché chi è seppellito sono degli letterati impegnati, l'ho collegata poi, adesso non mi ricordo, con il Parlamento, perché io studio diritto, e poi con la Resistenza, quindi Italo Calvino e così via, con la spesa pubblica in relazioni internazionali. Insomma, dai, programmi per il futuro? Lingua e letteratura a Urbino? No, penso decentemente. Alla fine non era così difficile come si immaginava. Anche commissari comunque molto tranquilli e molto amichevoli, quindi non ti mettono tanta ansia. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati in breve i collegamenti? Allora, l'immagine era sull'Art Nouveau, sul stile metro in Francia. In collegamenti alla fine, rivoluzione industriale, decadentismo, comunque riguardanti sempre al progresso tecnologico. È andata. Pensavo peggio. L'ansia c'è ancora, deve ancora andare via, però è andata. Crescita microbica, come immagine, e poi ho collegato alla seconda rivoluzione industriale, con il petrolio, i vaccini e tutte le scoperte. Cosa farai in futuro? Lavoro. L'università no. L'ultimo esame della mia vita? Basta. Finito. Pensavo meglio. Mi trovo in difficoltà a parlare avanti molte persone, mi sono bloccata un po', però tutto bene. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati i collegamenti? È il vulcano per la ginestra di Leopardi, ho collegato Leopardi con il pessimismo a Schopenhauer, poi ho parlato dei vulcani, ho collegato il Vesuvio che è ruta durante la seconda guerra mondiale, poi da Schopenhauer sono passata a Freud e ho collegato il polo positivo e il polo negativo in fisica. Cosa farai in futuro? Psicologia, a Urbino. Ieri a Pesaro gli uomini della Guardia Cossiera hanno salvato una 94enne caduta nelle acque portuali. È successo poco dopo le 14.30 quando la sala operativa ha ricevuto una segnalazione. Nell'immediatezza il personale della Capitaneria di Porto si è recato sul posto munito di salvagente per recuperare la signora e prestare le prime cure del caso. Giunti in banchina, i militari si sono accorti che l'anziana era rivolta con il viso immerso nell'acqua e non dava segni di coscienza. Così uno di loro si è tuffato in acqua in attesa dell'arrivo del battello veloce di Pesaro. In particolare, una volta rigirata l'anziana sul dorso e messa in sicurezza con l'ausilio del salvagente, un militare ha messo in galleggiamento una malcapitata tentando di farla riprendere i sensi. Poi, una volta arrivata all'unità della Guardia Cossiera, l'anziana è stata recuperata a bordo del battello dove le sono state prestate le prime cure alle quali l'anziana ha risposto recuperando i sensi. Al termine, la signora di 94 anni è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Pesaro per accertamenti. Invece, nel comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, oggi è stato celebrato il 249esimo anniversario della Fondazione del Corpo. La cerimonia è stata anche l'occasione per premiare le fiamme gialle pesaresi che si sono distinte per alcune attività di servizio, ma anche per stilare un bilancio dell'attività svolta nel corso del 2022 e nei primi cinque mesi del 2023. 72 persone sono state denunciate per reati tributari, mentre il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, è stato di oltre 9,8 milioni di euro. Sono stati individuati 88 evasori totali e 48 lavoratori nero o irregolari. In materia di spesa pubblica, invece, 117 soggetti sono stati denunciati e altri 15 sono stati segnalati alla Corte dei Conti. Inoltre, i controlli sul reddito di cittadinanza hanno portato alla denuncia di 66 persone e alla scoperta di illeciti per 460 mila euro. Mentre, in tema di appalti e corruzione, le indagini hanno portato a 27 denunce. Una persona è stata arrestata per il reato di usura, mentre sul versante della contraffazione sono stati sequestrati più di 750 mila prodotti industriali, contraffatti e non sicuri. Passiamo al sit-in che si è svolto sabato mattina a Fano, a Carignano, per riaccendere i riflettori sulle terme. Un progetto importante sul quale è calato il silenzio che potrebbe portare un grande indotto turistico ed economico di 31 milioni di euro, oltre a creare circa 700 posti di lavoro. C'era per noi Cristiana Guerra. Terme sì o terme no è il titolo dell'incontro di questa mattina. Dal 25 ottobre 2022 nulla si è saputo. Purtroppo no, noi vogliamo sapere terme sì o terme no e c'è un punto interrogativo. Questo luogo è stato chiuso nel 2014, è stato lasciato totalmente in abbandono. Nel 2020 finalmente la Società Romani ha acquistato i terreni, ha presentato all'inizio a voce un progetto molto interessante, molto importante. questo progetto è andato avanti. Il 25 ottobre del 2022 è stato presentato alla città. La Società Romani ha sempre sostenuto attraverso il suo amministratore delegato, che è l'avvocato Maurizio Natali, l'importanza di conoscere l'indice di gradimento dei cittadini e della città. È fondamentale per loro, per questo progetto. I cittadini e la città è stata coinvolta in tutto questo e per questo noi chiediamo delle risposte che ad oggi non sono arrivate, perché dopo la presentazione del Redering il 25 ottobre 2022 a Fano, a tutta la città, non sappiamo più niente di quello che saranno le nostre terme e il progetto che c'è al suo interno. Questo silenzio ci dà molto da pensare, perché noi aspettavamo dei forti segnali da parte di tutti quanti e soprattutto segnali di riapertura che non stanno avvenendo. Purtroppo, come potete ben vedere, c'erano state tante aspettative, tante promesse che non sono state mantenute. Anche la riapertura del parco, questo parco è un parco con alberi secolari, noi ci aspettavamo che appunto venisse ripristinato quanto prima e tra l'altro ci si aspettava pure che venisse fatta una recinzione ad opera d'arte, perché purtroppo all'interno di questo parco comunque continuano ad entrare, quindi c'è un ingresso di estranei. Tra l'altro è un luogo importante anche perché è di attrazione per gente che potrebbe venire da fuori. Assolutamente sì, come lo è sempre stato ai tempi d'oro, cioè quando le terme erano aperte. Quindi noi adesso vediamo tutto questo stallo, questo silenzio che chiaramente non piace perché ci aspettavamo tanto. Sicuramente c'è un problema politico dietro, abbiamo le amministrative proprio alle porte, quindi sicuramente questo incide tanto. Ciò che mi auguro è che una volta che ci appianiamo a livello politico poi magari riparta tutto quanto, perché è ciò che mi auguro in qualità di Presidente del Comitato e tra l'altro una cosa che comunque continuerò assolutamente a fare è quella di continuare a vigilare anche successivamente in modo tale che tutte le cose vengano fatte a regola d'arte. Questa è una struttura importante da valorizzare soprattutto anche dal punto di vista economico? Soprattutto dal punto di vista economico perché dopo le tante promesse fatte otto mesi fa nel mese di ottobre con la presentazione del progetto chiaramente l'impatto sulla città sappiamo cosa potrà essere nei prossimi anni dal punto di vista turistico ma quello che interessa oggi i cittadini fanesi e soprattutto quelli di Carignano è quello di sapere come mai non viene il degrado che c'è in questa zona assolutamente inconcepibile almeno una sistemazione di tutta l'area perché non è accaduto niente in questi otto mesi. Infatti a tal proposito i cittadini ad oggi non hanno più notizie quindi che prospettive ci saranno? I cittadini come gli operatori economici sono in attesa di capire gli sviluppi di questa importante area perché l'indotto che potrà essere coinvolto in questa operazione è tantissimo si parla di turismo, si parla di attività economica si parla di collegamento introterra città e quindi questo impasse, questo oblio che si è creato ci mette molta preoccupazione. La città di Fanno rende omaggio al vescovo uscente Monsignor Armando Trasarti domani 27 giugno alle ore 21 il sindaco Massimo Seri concederà a Trasarti nell'ambito di un incontro che è stato organizzato nell'ex chiesa di San Francesco la cittadinanza onoraria nell'occasione saranno presenti anche rappresentanti istituzionali delle altre tre ex diocesi riunite Fossombrone, Cagli e Pergola Trasarti ha fermato il sindaco negli ultimi 16 anni è stato un punto di riferimento non solo religioso ma anche civile della nostra comunità un momento voluto che vuole ripercorrere anche il suo percorso all'interno della diocesi Cambiamo argomento e parliamo di nuovi giochi per bambini a aree e aree verdi nei diversi quartieri della città di Fanno l'assessore Brunori ha fatto il punto sui lavori e sui progetti in cantiere a breve verrà finanziato anche il parco delle meraviglie ai passeggi Dopo la riqualificazione di Fanno 2 avevamo annunciato proprio la realizzazione di nuovi giochi in quattro aree verdi quattro aree dove erano stati in parte smantellati i giochi quindi erano sprovvisti in parte proprio dove necessitava un'area di nuova realizzazione parliamo della zona di Gimarra quindi di via Villa Giulia dove appunto non era stato previsto nulla poi siamo in via Boccioni alla Paleotta dove c'è un'area di basket e dove i giochi erano stati smantellati nel tempo in quanto faticenti e oggi li abbiamo invece ripristinati in via del Pietrisco a Cucurano dove una parte sono stati installati adesso ma ce ne sarà una seconda parte che non appena arriveranno verranno appunto messi a disposizione e l'ultimo parco è quello dei via dei Lecci quindi nella zona di San Lazzaro dove anche lì avevamo un po' rimosso tutto perché erano stati erano degradati e pericolosi per i bambini per cui ecco queste 4 nuove aree la prossima a seguire sarà quella di Falciraga dove faremo una mini installazione verranno previste anche delle panchine lungo la pista ciclabile sia dell'Arzilla ma anche quella di Fano Fenile il giardino dei passeggi il parco dei passeggi a noi molto caro che è caro un po' a tutta la città perché è un riferimento di tutti i quartieri presto quindi non appena ci verrà consegnato il progetto poi cercheremo di finanziarlo e appunto di realizzare quello che è questo bellissimo parco delle meraviglie proprio oggi ad aggiungerci dei ragazzi invece del liceo Torelli attraverso un progetto di scuola alternanza lavoro ci hanno presentato un nuovo progetto di riqualificazione dei giardini di fronte all'area della Rocca Malatestiana perché? perché noi veramente abbiamo bisogno di una progettazione anche partecipata dove la voce dei giovani, dei bambini per noi è importante perché quei luoghi devono essere messi a disposizione secondo dei bisogni che oggi la società moderna ha tutti questi nuovi spazi attrezzati fanno parte sono parte integrante dell'architettura della città sono parte integrante perché il gioco è un elemento che appunto è al centro favorisce la crescita ma noi vogliamo sempre più diffondere queste esperienze di gioco in tutta la città ed è per questo che ci stiamo muovendo in tutti i quartieri non solo nel centro storico ma anche in periferia ieri sera Fanno si è conclusa l'undicesima edizione di Passaggi Festival che quest'anno ha visto protagonisti più di 180 ospiti anche Fanno TV ha seguito diverse presentazioni librarie che vi proporremo anche in ITG dei prossimi giorni intanto questa sera vi proponiamo l'intervista realizzata da Cristiana Guerra a Mario Giordano e quella di Francesco Sole intervistato da Stefania Bonomi Mario Giordano quest'anno torna a Passaggi il titolo del suo libro è Maledette Iene ma questa volta chi sono le iene? sono le Maledette Iene, non posso fare come Maledette Iene, faccio come in trasmissione Donato! le Maledette Iene chi sono? sono quelle che si approfittano le persone in difficoltà noi viviamo in un periodo in cui i poveri diventano sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi e già questa è una cosa abbastanza strana perché sparisce, vediamo le code davanti alla mensa dei poveri vediamo le code davanti ai negozi gioielli la ricchezza quando è legittima, quando produce ricchezza e benessere per tutti va bene quando invece è una ricchezza che si accumula sulle disgrazie degli altri penso alla sanità, penso a quelli che si sono arricchiti sul covid ma penso a quelli che si arricchiscono sullo sfascio della sanità sui pronto soccorso, le cooperative racconto del libro, diverse, con nomi e cognomi sempre perché faccio nomi e cognomi cooperative che si arricchiscono sullo sfascio degli ospedali quelli che si sono arricchiti con i soldi delle bollette quante famiglie, artigiani, commercianti sono andate in difficoltà perché non ce la fanno a pagare le bollette e dove sono finiti questi soldi? ad arricchire grandi imprese, le municipalizzate e come hanno utilizzato questi soldi? nel libro racconto con nomi e cognomi quelli che si sono dati stipendi milionari quelli che hanno usato questi soldi per fare operazioni diciamo così, almeno ambigue ecco, secondo me queste sono le maledette Iene ecco, per questo, proprio perché fa nomi e cognomi la possiamo definire una persona coraggiosa ma anche ottimista dall'altra parte ma io penso che fare il nostro lavoro abbia senso se si fa così lo dico anche sempre ai miei ragazzi, ragazzi fuori da cosa se volete lavorare ha senso questo io dico il libro alla mia mamma la mia mamma è una di tantissimi italiani che dedica la sua vita ad aiutare gli altri se io non facessi questo lavoro in questo modo cioè cercando di combattere con i miei mezzi con i miei limiti ma combattere le maledette Iene invece facessi il portavoce delle maledette Iene come purtroppo a me, molti dei miei colleghi fanno io non avrei più il coraggio di telefonare alla mia mamma come faccio ogni sera quando torno a casa mi sentirei giudicata da lei e come lei da tutti gli italiani che invece fanno vita per bene è un paese meraviglioso di gente meravigliosa di tradizioni, di storia, di cultura noi non possiamo girare la testa all'altra parte se non si riescono proprio a cambiare tutto come noi vorremmo almeno non permettiamo che le maledette Iene ci facciano diventare come loro ed è già un gran risultato il romanzo è diviso in sette capitoli Francesco Sole, producer, autore televisivo, conduttore, tv e influencer nei tuoi post parli in modo quasi costante delle donne e del loro potere personale da cosa nasce questa attenzione per il mondo femminile? a parte che hai mancato scrittore ma soprattutto cuoco ci arrivavo dopo io cucino benissimo privatamente cucino benissimo da cosa deriva? da semplicemente una passione di capire l'altro poi non per forza le cose che scrivo sono identificative di un genere è ovvio che le donne naturalmente sono più empatiche io credo e quindi sono maggiormente ascoltato da loro in quello che scrivo ma in realtà non è che ha un genere definito mi piace però raccontare spesso di quello che magari possono esprimere possono motivare, possono ispirare le donne e io credo che ce ne sia anche bisogno soprattutto da il genere maschile spesso e volentieri viene visto come un segno magari di debolezza o di raffinatezza il celebrare o cercare anche punti di ispirazione o di motivazione in quello che è, diciamo, se vogliamo tutto quello che rientra nell'universo femminile io credo che invece ci sia una grandissima forza e anche una grandissima ispirazione per non solo le donne stesse ma anche per noi uomini prendersi cura di se stessi è un concetto che ritroviamo molto spesso nei tuoi post sì come mai? Perché prendersi cura di se stessi? In che senso? Come? Come? Allora, è una domanda molto larga molto grande io credo che comunque è mettersi a volte davanti quotidianamente a quello che facciamo quindi anche mettere in discussione le nostre abitudini le routine cercare di anche nelle relazioni non vedere sempre la relazione di coppia come io e te ma ci sono anche io e ci sei anche tu e quindi ritrovarsi ciclicamente in un discorso anche soggettivo io credo che imparare ad ascoltarsi sia un primo passo per cercare di capirsi anche meglio e capire come poter ascoltare anche gli altri Parliamo del tuo romanzo La storia d'amore che ti cambierà la vita può veramente una storia d'amore cambiare la vita? La cambia una volta o la può cambiare più volte? Allora, sì, può farlo come? È la domanda leggi il libro e troverai una bella risposta E tu l'hai già avuta la storia d'amore che ti ha cambiato la vita? Sì, più di una me le tengo tutte nel cuore Prossimamente faremo un bilancio dell'evento anche insieme agli organizzatori del festival ma di certo passaggi ha avuto ricadute positive sul turismo sull'indotto economico e sulla promozione della città come confermato dall'assessore Fanezzetti e Lucarelli Stasera è serata di chiusura, com'è andata? Ma sicuramente un'altra grandissima edizione dopo il decimo anno dove c'è l'aspettativa dell'anniversario non è mai facile ripetersi invece veramente un'altra edizione fantastica con tante sedi e la nostra città con una serie di eventi sempre veramente molto partecipati a parte i due luoghi magici del Pincio con l'area music e social di fuori passaggi e la rassegna grandatori del piazza sempre piena ma anche veramente innovare con altre rassegne come ad esempio la rassegna di economia che si è tenuta a San Domenico è veramente una cosa importante quindi una manifestazione che cresce cresce grazie all'intelligenza delle persone che ovviamente stanno creando un progetto molto interessante ma grazie anche devo dire ai tanti ragazzi ai tanti volontari che partecipano sempre volentieri a passaggi che in questi giorni si sono adoperati tantissimo per rendere la nostra città bella piacevole insomma credo che passaggi sia testato in modo veramente forte nella città di Fano vedere ad esempio in questo momento Malika Iane che racconta la propria vita proprio sotto Cesaro Ottaviano Augusto e di fronte all'arco d'Augusto la dice lunga di come queste attività possono essere realizzate soltanto nella città di Fano e parlare sia di attualità della vita dei personaggi che vengono qua ma anche della bellezza della nostra città ecco è per questo che continueremo a credere investire, a collaborare a lavorare insieme l'associazione Passaggi Cultura e ovviamente a credere in Passaggi Festival Un evento che sicuramente porta a Fano tanti turisti anche? Un evento che in questi dieci anni sta crescendo tanto anche dal punto di vista turistico un fenomeno di quest'anno le persone chiamano nel nostro ufficio turismo e nei vari luoghi del ricettivo e vogliono cercare un posto anche un bed and breakfast o una casa vacanza in centro storico perché vogliono vivere direttamente l'esperienza di Passaggi Festival quindi in questo caso un turismo esperienziale che si muove nel tema della cultura e che vuole essere direttamente all'interno di Passaggi Festival un fenomeno dettato solo alla presenza di questa manifestazione Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco trasmetteremo un approfondimento dedicato ai malatesta a Fano all'evento organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia che torna questo fine settimana da venerdì a domenica tra conferme e novità e poi uno speciale sulla premiazione della squadra femminile di calcio a 5 della SD Pian di Rose Grazie per averci seguito e arrivederci a domani Grazie a tutti